Undicesimo Ecoforum di Lega Ambiente, Chioto Club Nuova Ecologia, siamo in compagnia di Paolo Contò, direttore del Consiglio di Bacino Priula, una realtà di casa agli Ecoforum di Lega Ambiente, di casa alle premiazioni di comuni ricicloni, ecco come si riesce a tenere insieme una performance eccellente nel servizio di raccolta del rifiuto e al contempo la capacità di tenere bassi i costi, tanto di gestione quanto i costi appunto per i cittadini. Sì, è un modello che è fondato sulla partecipazione dei cittadini principalmente, quindi è costruito il servizio capillare in modo che raggiunga tutte le utenze con il proprio contenitore dotato di uno trasponder per poter leggere le operazioni di svuotamento e in particolare tener conto della frazione peggiore che è quella del rifiuto che non si riesce a separare e riciclare e applicare la tariffa, premiare anche in termini tarifari il cittadino da questo punto di vista. Quindi il cittadino si sente responsabilizzato, premiato per il sistema tarifario e quindi partecipa all'organizzazione stessa perché è il primo anello fondamentale senza dare il quale non succede niente dopo. Quindi abbiamo una qualità alta di rifiuti riciclabili perché sono intercettati casa per casa, abbiamo una quantità bassa di rifiuti indifferenziate e quindi possiamo spendere meno per il loro smaltimento però riprendere maggiori ricavi dal riciclo perché abbiamo messo insieme organizzazione e partecipazione dei cittadini. Ecco che i cittadini hanno anche un metodo, la propria tariffa, per tenere basso il proprio costo e complessivamente si realizza un miracolo più complessivo di tutti i 556.000 abitanti che reagiscono a un modello di questo tipo in maniera responsabile, in maniera cooperativistica.